Per informare i membri della Chiesa, la prima Presidenza ha emesso il seguente rapporto statistico riguardante la crescita dei membri della situazione della Chiesa al 31 dicembre 2014. Il numero totale di pali alla fine dell'anno era di 3.114, con 406 missioni, 561 distretti e 21.621 rioni e rami. I membri della Chiesa erano 15.372.337. Il numero di nuovi bambini registrati aggiunti durante il 2014 è stato di 116.409, con 296.803 convertiti battezzati. Al 31 dicembre c'erano 85.147 missionari a tempo pieno e 30.404 missionari di servizio nella Chiesa. Nel 2014 sono stati dedicati tre templi, Gilbert Arizona, Fort Lauderdale, Florida, Phoenix, Arizona. Nel 104 è stato ridedicato il tempio di Ogden, Utah. Alla fine dell'anno il numero di templi in funzione era 144.